Buongiorno a tutti, sono Paolo Ferralasco, cuoco e fondatore del ristorante ZOOP e chef di Genova e Liguria Gourmet. L'esperienza Vivi Sostenibile ci ha dato la possibilità di entrare a far parte di un percorso di consapevolezza che ci ha reso attori principali di una formazione che tutto il nostro settore deve attuare. Perché ora come ora i temi che la ristorazione in particolare deve seguire non si limitano soltanto al senso di convivialità nel consumo di un pasto ma sono i temi dell'economia circolare, della salute, del risparmio energetico, in una parola della sostenibilità. Sostenibilità che in cucina ci ha dato la possibilità di controllare dei processi che possono risultare critici come per esempio la produzione. Noi dobbiamo assolutamente sapere che cosa andiamo a lavorare, noi dobbiamo sapere come viaggia, noi dobbiamo sapere come viene trasformato, qual è il modo migliore per trasformare la materia prima che andiamo a comprare. Anche perché questo è un modo per valorizzare il territorio, che è uno dei parametri fondamentali della sostenibilità nel nostro settore. Inoltre la sostenibilità farà sì che rivoluzionerà, utilizzo questo termine perché lo credo fortemente, andrà a rivoluzionare il nostro settore e siamo noi ristoratori a doverci assumere la responsabilità di essere un veicolo, di riuscire a raccontare una storia per fare in modo che chi si siede al nostro tavolo sia consapevole degli sforzi che stiamo facendo.